ragazzi buongiorno a tutti siamo qui nella come si chiama? tuk tuk no 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 la via la via casa roth siamo qui nella casa roth una delle vie più trafficate al mondo siamo precisamente a bangkok su un tuk tuk siamo qui con Giorgio Tami allora facciamo siamo venuti appositamente a incontrare Giorgio Tami la cosa roba per fare una piccola chiacchierata sul seo ma non senti niente questo trappo si senti si senti e te ti sentono quando voglio proviamo a chiedere cosa ci dice Giorgio Tami del Google più uno la cosa roba va bene allora il Google più uno il Google più uno non è altro che un potenziatore della social search che non va va ad aumentare i link che Google acquisisce e inserisce all'interno di social search quindi quando noi utilizziamo Twitter e inseriamo un link tutte le persone che ci seguono su Twitter tipo questa persona tipo questa qua che ci seguono su Twitter se questo qua mi segue su Twitter quando cerca qualcosa correlato al link che gli ho postato Google glielo suggerisce sono il più uno non si fa altro che aumentare i link che le persone suggeriscono attualmente il più uno però è solo applicato alle search di Google quindi è inutile nel senso non ha senso cliccare sul più uno in una search perché non conosce ancora i siti il boom lo saprà quando Google rilascerà il bottone ufficiale dove tutti quei master potranno inserire il più uno e lo farà con una politica un po' secondo me sporca dove dirà se volete aumentare il traffico che arriva ai vostri siti da parte di Google mettete il bottone ufficiale così avete la possibilità di aumentare il traffico dalle search di Google questo potrebbe portare moltissimi webmaster a inserire il più uno come oggi è il bottone di Facebook o il bottone di Twitter e quindi Google potrebbe addirittura ignorare i dati che provengono dai social network se questo bottone comincerà ad essere usato in modo molto frequente bene quindi ci stai dicendo che con un bottone schiacciandolo potremmo aumentare un pochino il traffico giusto? sì qui a Bangkok ti sentirebbe qualcosa di diciamo agli antipodi che tu schiacci il bottone e sparisce il traffico e sparisce il traffico giusto? va benissimo ragazzi qui da Bangkok è tutto stiamo per andare al chat di check e un saluto